Chi ha tu faccia l'una? Che? Fate vedere un po'? No! Questa è la Lara, che sta facendo il muso. Adesso! Non, 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 non. Non, 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 non. Lara-G reads, ecco la quinta. Tar contenta velocità nell'azione di Lara-G reads. Otterre tre 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 sei! Il momento più sereno del mio inverno è stata quando mi ero rotta da tre secondi il crociato ed ero serena.